buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere un progetto molto interessante che deve ancora vedere la luce sulla blog cene di cardano attualmente ancora in fase initial stake pool offering ovvero i spio e successivamente dovrà lanciare anche una public sale sto parlando di un ottimizzatore di rendimenti ovvero no yield optimizer e andiamo a vedere che cosa si propone di fare yield genius su cardano ovviamente dopo la sigla siamo sulla pagina ufficiale di genius yield raggiungibile all'indirizzo genius yield punto ciò prima di cominciare questo video vi ricordo che non vuole essere assolutamente un invito o un sollecito all'invenzimento ma solo un video educativo mi raccomando ragionate sempre con la vostra testa e qualora decidiate di acquistare un token indipendentemente da quello che state vedendo da questo video il discorso che vale per tutti i progetti fatelo sempre con le vostre opinioni le vostre strategie il vostro rapporto rischio rendimento e con condizioni di causa mi raccomando ovviamente gli utenti quando si avvicinano alla defy ovviamente sono attirati anche dalla possibilità di ottenere dei rendimenti passivi collegando i propri wallet non custodia a diversi decks che permettono lo stake in diverse pool questo comporta una conoscenza approfondita della materia per quanto riguarda le diverse strategie che si possono utilizzare in questi decks sulle varie cene esistenti al fine di avere un rendimento elevato per massimizzare questi rendimenti molte volte capita che non basta depositare un token all'interno di un pool ma bensì bisogna utilizzare più pool non sempre nello stesso decks ma in diversi decks il nostro soccorso arrivano gli automati degli eld optimizer che sono per l'appunto degli ottimizzatori di rendimenti che cosa fanno vanno a fare tra virgolette lo sporco lavoro al posto nostro ovvero ci permettono all'interno di un'unica piattaforma come può essere genius yield di depositare un token o una valuta e l'intelligenza artificiale collegata agli smart contract della piattaforma in questo caso genius andrà a selezionare per noi i diversi pool in questo caso dell'ecosistema di cardano per massimizzare i nostri rendimenti senza doverci collegare noi direttamente ai diversi swap come può essere sunday swap oppure lido finance e tutti gli altri swap che sono nati su questa block chain noi ci collegheremo all'interno di genius depositeremo la nostra valuta daremo l'autorizzazione a genius di gestire i nostri fondi e in base degli algoritmi andrà a selezionare in automatico le varie pool per garantirci un rendimento maggiore in linea di massima è quello che fa l'ottimizzatore di rendimento in generale genius yield va ad unire anche l'intelligenza artificiale al fine di massimizzare per appunto i nostri rendimenti ci permette infatti di depositare il nostro token e utilizzare lo smart liquidity vault selezionare una strategia di gestione della liquidità è tutto in automatico andrà a generare i nostri rendimenti quindi non solo si depositerà un token e in automatico andrà a selezionare le pool più promettenti ma ci dà proprio la possibilità di andare a selezionare delle strategie gestite sempre da intelligenza artificiale per massimizzare ancora di più i nostri rendimenti in base anche alla nostra gestione del rischio inoltre sarà completamente integrato al loro wallet con la possibilità anche di exchange cripto fiat quindi non solo uno yield optimizer ma un dex decentralizzato un wallet tutto in un'unica piattaforma che gira sulla blocce di cardano quindi a velocità elevata a bassissime fi di transazione il progetto è ancora in fase isp o ovvero initial stake pool offering questa possibilità è stata avviata a dicembre il 15 dicembre 2021 e scadrà la possibilità di partecipare alla isp o 15 giugno 2022 ovviamente come dice la parola initial stake pool offering per avere le ricompense del token utili della piattaforma bisogna comunque avere un buon capitale da depositare in state sempre cliccando su isp o c'è la possibilità di simulare un delegate ad esempio andando a depositare circa 1340 ad a supponendo di aver iniziato dal prima epoca al 15 dicembre fino all'ultima si andrà a ricevere 120 token in reward quindi capite bene che chi ha il maggior possibilità di investimento di capitale delegando ad ha la possibilità di guadagnare ovviamente più tocche per partecipare alla isp o come vi mostra il video in sovraimpressione ma che trovate direttamente sul sito ufficiale bisogna utilizzare gli oroi che al wallet non custodial di cardano per chi non ha la possibilità o la voglia di partecipare a una raccolta fondi del genere successivamente ci sarà anche una token sale data ancora da destinarsi per quanto riguarda la token omics avremo 100 milioni di token 3 milioni di token dedicati alla pre sale 10 milioni di token dedicati alla isp o qua a destra potete vedere la token allocation le percentuali che va dal sit around 20 per cento isp o 10 per cento il team 18 per cento marketing e partnership il 5 per cento public sale e 3 per cento token liquidity 12 ecco system se di 6 per cento reward program al 20 per cento la dao e il treasury del 6 per cento i token sarò token utility e di governance ovviamente o il dandolo si potrà partecipare alle decisioni della community per essere membri attivi del progetto inoltre si avranno degli incentivi maggiori utilizzando l'ecosistema di genius yield si potrà anche infatti andare a guadagnare circa un 20 per cento di tutte le transazioni che si avranno sulla piattaforma ovviamente proporzionali alla detenzione del token andando a dare uno sguardo veloce alla roadmap nel q2 2022 verrà lanciato genius dex e al reward program nel q3 ci sarà la public sale data ancora da destinarsi l'exchange listing partirà genio governance e le smart liquidity vault e il fiat genius wallet per quanto riguarda il q4 partirà lo smart swap genius volte strategi competition fino ad arrivare al momento al q2 2023 con la loro applicazione mobile l'aggregatore multi protocollo il dashboard auto compound quindi un progetto che sta per nascere che può rivelarsi un ottimo supporto per la community di cardano ricorda non vuole essere un incentivo all'investimento ma tetelo nei preferiti e occhi puntati su questo progetto per quanto riguarda il team lascio verificare a voi le informazioni necessarie e vi lascerò il link in descrizione per i documenti per andare a studiare il progetto in autonomia attualmente nel momento in cui lo sto registrando il video la community telegram conta appena 5000 utenti bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento come sempre spero che il video sia stato di vostro gradimento e l'abbiate trovato utile vi invito per supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale donna e bianca la nostra community telegram vi ringrazio ancora per l'attenzione al vostro tempo ci vediamo presto ciao a tutti